L'aspetto vincente probabilmente è stato proprio l'idea di open source, cioè l'idea che ogni persona dall'individual member che noi abbiamo, cioè la singola persona che fa il negoziante, al manager della larga impresa possa entrare nella community e veramente contribuire alla valorizzazione dei sistemi digitali, delle tecnologie firework che noi promuoviamo e quindi questo forse questa apertura verso il mondo circostante ha fatto sì che la nostra community diventasse non solo sempre più grande ma che avesse dentro anche un'eterogeneità di attori, quindi ripeto attori che provengono dalle più disparate diverse organizzazioni. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!